Passano gli anni le normative, le regole mutano con i tempi. Il problema però è che non sempre e non tutti i cittadini ne sono o possono esserne al corrente. È quanto accade per il piano regionale per la tutela delle acque. In Soldoni ci sono a Vicenza abitazioni e attività commerciali che occupano edifici non di recente fabbricazione che non sarebbero in regola con la nuova normativa. Ci sono un buon numero di cittadini mappati, più o meno 1.400 di nuclei di capi famiglia e più o meno 340 di esercizi commerciali che occupano immobili relativamente datati che proprio per il cambio della normativa, in particolare di una normativa regionale del 2012, probabilmente non hanno le autorizzazioni in regola. Parola d'ordine quindi informazione anche per evitare eventuali multe salatissime che vanno dai 6.000 ai 60.000 euro. Partiamo con una campagna di informazione, nel 2019 circoscrizioni 2, 3 e 4, nel 2020 invece le restanti circoscrizioni per aiutare i cittadini a risolvere un problema che magari è semplice ma potrebbe non esserlo e potrebbe aver bisogno soprattutto della consulenza dei professionisti. Chi di fatto ha gli impianti in regola non dovrà fare altro che darne comunicazione al comune e pagare la marca da bollo di 16 euro. Più complessa la situazione per chi dovrà aggiornare gli impianti. Chi non è in regola avrà un tempo per comunicarcelo, daremo un ulteriore tempo, circa due anni, quindi capite che cerchiamo proprio di metterci a disposizione anche come uffici per l'informazione, per poter attraverso un professionista capire qual è l'intervento che devono fare. Grazie. Grazie. Grazie.